Nella vita può capitare di avere l'incontro con una persona che abbia un disturbo narcisistico di personalità a volte anche in modo pesante e questo allora determina tutta una serie di sentimenti, di emozioni che sono veramente spiacevoli, che fanno stare male la persona che le incontra ma a volte questo parte anche addirittura dalla propria infanzia perché magari all'interno della propria famiglia c'era qualche persona che aveva questo disturbo e quindi si è stati tra virgolette un po' allenati a poter subire degli abusi da un punto di vista emotivo, almeno se non psicologico e fisico e allora quando si incontra un narcisista nella propria vita in quel caso si ha quasi la sensazione di trovare una normalità cioè è tutto come è sempre andato anche se questa persona ci fa star molto male ma può capitare di incontrarlo anche senza aver avuto un passato di genitori o fratelli che probabilmente non avevano quel tipo di disturbo ma in realtà sono stati anch'essi svalutanti e quindi incontrare una persona che ci fa sentire da un punto di vista del love bombing le persone migliori del mondo questo è veramente qualcosa che appaga e gratifica anche se purtroppo, come ben sappiamo dopo queste persone non si comportano nello stesso modo e diventa invece una via lastricata di denigrazione di gaslighting, di critiche, di sofferenza che a un certo punto fanno dire alla vittima di questo abuso narcisistico adesso basta, non ce la faccio più e da quel momento allora inizia tutta una via diversa la via per provare a rinascere per provare a creare delle situazioni che possono essere realmente appaganti e quelle che meritiamo in realtà il lavoro però non è così semplice perché dopo dei periodi molto lunghi se si è iniziato dalla famiglia di origine e comunque lunghi a volte anche se si è incontrati un partner, un collega una persona con la quale si deve convivere che ha questo tipo di disturbo di personalità è chiaro che bisogna fare tanto lavoro su di sé cercare di riappropriarsi un po' di quelle che erano le nostre caratteristiche o comunque crearci delle nostre nuove risorse che ci permettono di essere e di vivere ciò che veramente vogliamo ma la cosa più frequente è quella che dopo aver subito una relazione di questo genere e dopo aver iniziato a lavorare su se stessi si può anche essere riusciti a staccarsi dal narcisista o dalla narcisista nonostante la durezza del lavoro e sappiamo che il narcisista o la narcisista tante volte non ti lasciano andare se sei interessato a questo argomento ti lascio il link in descrizione del video che ne parla approfonditamente ma dopo di ciò si deve iniziare a fare i conti con aspetti molto profondi di noi che sono stati devastati c'è un vuoto che bisogna ricostruire e allora la scelta a volte è di una strada che si biforca in due direzioni quella di sopravvivere dopo aver vissuto una relazione con una persona con un disturbo narcisistico o quella invece di vivere pienamente la propria vita dopo aver passato questo fortunale questa tempesta nella quale si è incorsi nella propria vita e durante il proprio lavoro terapeutico o comunque il proprio tentativo di rinascere si sente davvero il vuoto dentro di qualcosa che è probabilmente quell'aspetto di codipendenza che è cresciuta nel momento in cui si è iniziata una relazione profonda con una persona con questo tipo di disturbo perché quando si ha a che fare con una persona che continuamente cerca di svalutarti cerca di farti stare male cerca di ridurti a una persona insicura per poter avere più potere su di te quello che nasce poi è la sensazione di non essere in grado di farcela nel momento in cui si dovesse interrompere il rapporto con questa persona di non essere in grado di ricostruirsi nulla e quindi aumenta sempre di più quella che è la codipendenza cioè l'accontentarsi di relazioni che ci prosciugano completamente le energie perché pensiamo che se non diamo tutto noi stessi o noi stessi per poter mantenere quella relazione non valiamo nulla e che la nostra vita non varrà nulla e andrà tutto in catastrofe in questo caso parliamo di dipendenza affettiva oppure di codipendenza due argomenti che ti invito a ascoltare nei video di cui ti lascio il link in descrizione perché possono aiutare a comprendere ciò che sta capitando nella vita di una persona che si ritrova a vivere in un rapporto così tossico perché senza affrontare certi argomenti e superandoli facciamo fatica a immaginarci da soli e quindi capaci di volerci bene per quello che siamo nonostante si possa non avere qualcuno accanto e allora il lavoro e questa fase tra passare da sopravvivere o vivere veramente in maniera rigogliosa la propria vita potrebbe essere anche un lavoro che dura diverso tempo a volte mesi, a volte anni per poter acquistare quel proprio sentimento di benessere nonostante non si abbia qualcuno per forza accanto che ci convalidi nel momento in cui una persona inizia ad abbracciare se stesso inizia a capire quali sono i propri desideri i propri limiti ciò di cui veramente ha bisogno più difficilmente cade nella trappola e nelle losing di una persona con disturbo narcisistico di personalità più facilmente riesce ad inquadrare alcuni atteggiamenti anche durante la fase del love bombing nonostante, come diciamo sempre, i narcisisti abbiano un grande talento per ammaliare le altre persone allora proviamo a capire che meccanismi, che tattiche, strategie mettere in atto con se stessi e con gli altri per poter riprenderci quella vita di cui abbiamo veramente il diritto quella che insegue quei sogni che noi facciamo che i desideri che noi abbiamo rispetto all'essere amati e all'amare che sono due parti fondamentali della nostra vita della qualità della nostra vita come fare per riprenderceli innanzitutto diciamo che durante la fase del love bombing è davvero difficile resistere a una persona con questo disturbo se incontra dall'altra parte una persona che è insicura sulle proprie capacità perché troverà sicuramente qualcuno che le dirà tutto quello che pensava di sé e che avrebbe desiderato e che nessun altro prima, dalla famiglia in poi le ha detto o gli ha detto veramente e i narcisisti sono abili maestri in questo ti fanno raccontare, ascoltano, sanno quali sono le tue fragilità e cercheranno di darti ciò di cui hai veramente desiderio in quel momento perché loro lo capiscono questo poi non interesserà mai nulla di quello che ti capiterà dopo perché non sono interessati al fatto che tu soffra o non soffra sono solo interessati ad avere più potere su di te e la cosa che succede appena tu rompi con un narcisista se è stato soprattutto un rapporto abbastanza cruento comunque difficile è la tentazione a volte di riavere subito un altro rapporto con un'altra persona per poter ricolmare quel vuoto che hai dentro e sicuramente questo non è un buon viatico può succedere una volta su un milione di incontrare subito la persona che si voleva incontrare e che ci mette a posto generalmente invece si rischia di ricadere in situazioni poco soddisfacenti o che comunque ci possano mettere di nuovo alla mercè di essere manipolati perché in realtà non abbiamo ancora fatto i conti col nostro vuoto non abbiamo ancora riempito quegli spazi con il nostro amor proprio e l'amor proprio è la capacità di volerci bene perché se hai vissuto una relazione con un narcisista o con una narcisista avrà fatto di tutto per farti dubitare di te e ci sarà riuscita in mille modi avrà iniziato veramente a colpirti da una parte e dall'altra fino al momento in cui pensi di essere perso o persa senza l'altra persona e allora ritornare a se stessi cioè ricomprendersi, ricentrarsi su di sé è il primo passaggio fondamentale per poter dire la mia vita potrebbe cambiare perché se tu riesci a riprenderti il tuo valore ad avere un'alta considerazione di te, dei tuoi bisogni, dei tuoi desideri probabilmente le altre persone questo lo percepiscono e allora la connessione arriverà non sui tuoi bisogni più basilari ma su dei bisogni di condivisione l'esempio che faccio spesso è se io guardo un tramonto il tramonto è sempre bello che io lo guardi da solo o che lo guardi con qualcuno ovvero se guardo un tramonto col sole che scende nel mare che illumina di colori pastello tutto il cielo sicuramente da solo lo guardo e dico è bellissimo se accanto a me ho una persona con cui condivido la mia vita probabilmente dico è ancora più bello guardarlo con qualcuno accanto e questo è il valore aggiunto se invece io dico se lo guardo da solo per me non ha nessun significato cosa guardo una palla di fuoco che cade nel mare che me ne frega senza di lei o senza di lui nulla esiste questo è un grave segnale della nostra dipendenza rispetto all'altra persona e allora dobbiamo lavorare in modo tale che comunque un tramonto è sempre bello che io sia con qualcuno o che io sia da solo e quello è il momento migliore per poter incontrare qualcuno con cui condividere un pezzo di strada nella propria vita e tu mi dirai però io ho imparato ad accettare così tante compromessi ad abbassare così tanto i miei desideri i miei obiettivi ad accontentarmi di così poco nella relazione che adesso faccio fatica a capire da dove partire e come iniziare a volermi bene allora iniziamo dal primo aspetto su cui lavorare informati, informati, informati su come è la relazione con una persona con questo disturbo che sia sentimentale che sia in casa, nella propria famiglia d'origine che sia al lavoro ovunque le persone che hanno un disturbo di personalità narcisistico devono per forza sottostare a schemi rigidi e ripetitivi di pensiero e di comportamento tu devi iniziare a capire che hanno delle schematicità e nel momento in cui tu riesci ad avere più informazioni a capire che per quanto abbiano questo disturbo e quindi soffrano del loro disturbo metteranno comunque in atto dei comportamenti nei tuoi confronti che faranno soffrire te a tua volta se tu impari a riconoscere questi meccanismi il love bombing, la denigrazione, la critica allo scarto tutte queste cose che ci sono ampiamente anche in rete o sul tubo e che quindi puoi trovare e documentarti nel momento in cui riconoscerai bene questi aspetti avrai più carte da giocarti nel momento in cui stabilirai la nuova relazione perché alcuni meccanismi li conoscerai molto bene e saprai anche difenderti ad esempio se stai frequentando una persona che ti fa delle grandi promesse ti fa sentire la regina o il re del mondo dopodiché inizia a non esaudire o comunque non si verifica una cosa che ti ha promesso ne succede un'altra che non ti mantiene eccetera eccetera a quel punto tu conosci bene quali sono i meccanismi tra il dire e il mantenere ciò che si è detto sono due cose che devono per forza coesistere in una relazione sana se no sono promesse vane e potrebbero essere un primo segnale di una relazione disfunzionale o tossica allora naturalmente cercherai di circondarti di persone che soddisfano questo criterio o da altri criteri che le persone con un disturbo narcisistico non possono soddisfare secondo aspetto importantissimo lavora sulla fiducia su di te se stai lavorando sulla conoscenza delle relazioni se stai lavorando sul tuo vuoto interiore se inizi a conoscerti meglio a prendere contatto con le parti che non volevi assolutamente accettare che inizi a sapere quali sono i tuoi limiti e sai come giudicare le altre persone questo aumenta tantissimo la fiducia in te stesso e questo ti permette di approcciare nuove relazioni con sia una griglia di comportamenti da osservare che comunque con dei campanelli d'allarme e quindi questo ti fa sentire più sicura di te più sicuro e quindi aiuta la tua fiducia la fiducia in un rapporto è qualcosa di fondamentale non esiste un rapporto vero una relazione senza fiducia e aver avuto una relazione con una persona narcisista sicuramente ha leso tantissimo la tua fiducia in te stesso perché non riesci più a distinguere ciò che pensi da ciò che è reale da ciò che non è reale ma forse avrà ragione lui a forse avrà ragione lei forse questo che io penso non è vero e se fosse ragione l'altra persona il fatto di iniziare a capire meglio quali sono invece i tuoi punti fondamentali questo ti aiuta a ricostruire la fiducia nell'altro per creare quindi un rapporto migliore e più duraturo e più sano perché a quel punto sai di poter giudicare da te stesso perché ti fidite chi è la persona con cui puoi stare e qual è la persona con cui non puoi stare perché potrebbe essere tossica nei tuoi confronti terzo punto se stai prendendo contatto con te stesso o con te stessa se stai veramente scoprendo quali sono le tue risorse quali sono le tue qualità quali sono i tuoi pregi, difetti quali sono i tuoi limiti questi limiti devono diventare qualcosa che ti guida nelle relazioni se tu hai comunque dei confini che non devono essere valicati da nessuno questo deve essere ma tu questo lo sai bene perché nella tua relazione precedente con un narcisista o con un narcisista hai capito che se tu devi dei limiti quelli dovevano essere per forza oltrepassati dall'altra persona perché non accettava la tua definizione voleva sempre avere qualcosa di più o metterla in discussione questo è un brutto segnale questo è un segnale che deve metterti subito all'erta e allora poter dare dei limiti vuol dire conoscere la persona che hai di fronte ovviamente in una relazione uno non può comunque vietare tutto all'altro o all'altra perché ha paura che potrebbe approfittarsene però se stabilisci dei limiti per cui tu dici questo è quello che io posso dare di più non voglio questo ti farà veramente capire qual è la qualità della persona che hai di fronte perché se rispetta i tuoi limiti vuol dire che è una persona che ha delle caratteristiche diverse da una persona che ha un disturbo di personalità narcisistica per semplificare se tu dici agli altri cosa ti va bene e cosa non ti va bene veramente riesci a capire se quella persona ti rispetta o non ti rispetta se quella persona è una persona giusta con cui crescere o comunque creare una relazione o un rapporto importante o se è una persona tossica nei tuoi confronti ed è bello stabilire poi che anche l'altra persona ha dei limiti che non devono essere valicati o che insieme potete discutere di quei limiti per poter migliorare voi stessi ma non perché qualcuno ruba o oltrepassa i limiti senza la volontà di qualcun altro quella non è una relazione sana guardo ma perché non lavorare ad esempio sulla tua crescita personale cosa intendo? intendo cercare di capire come comunicare meglio cercare di capire come sei fatto in profondità cercare di capire come ottenere le cose dagli altri senza manipolarli o comunque cercare di capire come non farsi manipolare se a certe cose non voglio concederle non voglio darle alle altre persone lavorare sulle proprie emozioni sui propri desideri sui propri bisogni sui propri limiti fare dei corsi studiare confrontarsi con altre persone e questo aiuta a connettersi meglio con le persone che si hanno intorno ad essere più capaci di comunicare ad essere più capaci di comunicare l'amore e quindi ricevere anche amore in una comunicazione più sana quinto aspetto fondamentale è cura occupati del tuo trauma emotivo che hai vissuto nella relazione con il narcisista o con l'anarcisista cioè quella sofferenza quella ferita che dietro ti porti e che fa fatica a rimarginarsi devi capire cosa è successo devi capire quali sono state le porte che ha aperto la persona sbagliata che avete intorno devi capire perché gli hai concesso così tanto o gli hai dato le chiavi per aprire anche porte che non avrebbe mai dovuto aprire se non capisci questo farai fatica poi a ristabilire una relazione sana con un'altra persona che possa permetterti di essere te stesso te stessa di lasciarti andare di rischiare in una relazione anche perché come dice Dalai Lama nei suoi 18 precetti per gli anni 2000 ogni grande impresa e ogni grande amore comporta un grande rischio cioè rischiare in una relazione non è evitabile però si può rischiare in relazioni per cui ne vale la pena e non rischiare in relazioni che sono già perse questa fa la grande differenza ma il desiderio, la capacità, la volontà di rischiare quella non la si può perdere perché senza rischiare in una relazione non costruiremo mai nulla di importante accanto a noi saranno relazioni tiepide, controllate in cui è più importante la sicurezza dell'amore e allora potrebbero non essere relazioni per forza soddisfacenti perché la componente della passione, dell'amore del lasciarsi andare, del sognare insieme è qualcosa di fondamentale in una coppia che si ritrova a voler vivere una vita insieme veramente veramente entusiasmante ci tengo però anche a sottolineare che le cose che noi subiamo cioè i traumi, i lutti, le grandi sofferenze della nostra vita non si cancellano da sole cioè fare un lavoro di terapia su queste cose non vuol dire prenderle e cancellarle far sì che una persona se ne dimentichi resetti completamente la nostra memoria esiste ciò che viviamo rimane però la grande capacità che ha a lavorare su questi aspetti e di poterli ricondurre a una piccola parte della nostra vita ovvero è come se noi riuscissimo a dare a questa esperienza un cassetto in cui riporla cioè un posto dove lei possa essere catalogata che ogni volta che viene riaperto ovviamente ha le sue sofferenze i suoi dolori che abbiamo vissuto ma ogni volta che lo richiudiamo ci permette di vivere la nostra vita in maniera più libera e consapevole perché se no il rischio è che in ogni cosa che noi facciamo ci sia sempre di mezzo a questo trauma che come le rispetto non si cancella ma che può essere un attimino ridotto in modo tale da permetterci di vivere la nostra vita comunque sesto punto è definire che cosa intendi e stabilire che cos'è una relazione sana per te ognuno di noi ha dei valori dei bisogni, dei desideri e dei limiti che sono anche differenti ma ognuno di noi sa quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una relazione sana ma nonostante ci siano delle differenze interpersonali una cosa che è certa è che dopo aver vissuto una relazione con una persona con questo disturbo narcisistico di personalità soprattutto se grave abbiamo perso l'idea di cosa possa voler dire una relazione sana per noi ridirci allora quali sono i punti cardini quali sono le qualità quello che desideriamo fondamentalmente dall'altro o dall'altra ci permette di crearci una mappa per cui riconoscere anche le altre persone e averla presente ti permette di valutare anche quello che stai vivendo che non per forza deve essere identico a quello che hai sognato e scritto su un foglio di carta ma che non può andare completamente contro tutto ciò che hai scritto perché se sei una persona che crede nella fedeltà dell'altra persona a 360 gradi cioè sia da un punto di vista economico e finanziario da un punto di vista della relazione sia la fedeltà nel volersi bene se credi questo incontrare una persona che invece infrange tutte le regole che tu poni che infrange la tua fiducia perché è una persona fedifraga o comunque ha relazioni sparse per il mondo o comunque non è capace di gestire le proprie risorse economiche per cui ti rende veramente difficile la tua vita è ovvio che questo si distacca tantissimo probabilmente dall'idea che tu hai di una relazione sana questi sei suggerimenti vogliono essere delle guide per potersi dire io voglio essere attivamente capace di crearmi una vita dopo aver subito un trauma d'abuso narcisistico dopo aver subito una relazione che ha fatto tanto soffrire che ha spolpato completamente le mie energie e le mie capacità di vedermi nel futuro perché la differenza non è solo sopravvivere a una relazione con un narcisista o con un narcisista ma è la capacità poi di crearsi invece delle relazioni sane che possono darci un gusto particolare alla nostra vita un piacere che abbiamo diritto di sperimentare e di costruire se questo video ti è stato utile puoi lasciare un like e se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale troverai altri video che potrebbero esserti utili e se hai dei commenti, delle esperienze, delle storie che vuoi condividere con gli altri meme della community scrivi qua sotto, nei commenti